E' intervenuto per sedare una lite tra due extracomunitari detenuti nell'ottavo reparto della casa circondariale di Barcellona e ha avuto la peggio. E' dovuto infatti ricorrere anche alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Cutroni Zodda per l'agente della polizia peridenziaria una prognosi di 5 giorni. E' l'ultima aggressione in ordine di tempo che è stata evidenziata dalla federazione sindacale COSP ha denunciato, rivolgendosi anche alle commissioni parlamentari come gli agenti peridenziari subiscano morsi, botte da orbi, lesioni e ferite frutto di continue aggressioni nelle carceri italiane. Una situazione più marcata in Puglia, Basilicata e Sicilia, un lavoro sostenuto sempre sotto organico. Tra sabato e domenica scorsa almeno quattro sono stati gli agenti rimasti feriti nelle colluttazioni con i detenuti in carceri dove si registrerebbe un aumento di circa 62.000 persone contro una capienza di 54.000 posti letto. Sicilia e Puglia sono le due regioni che non sembrano dare la possibilità di spegnere riflettori sulle criticità e sulle violenze che subisce il personale della polizia penitenziaria lasciato proprio nelle ore pomeridiane, serali e notturne senza direttore, senza comandanti e senza funzionari. A Barcellona, denunciato ancora il sindacato, un assistente capo occupa ben sei posizioni contemporanee di servizi e svolge attività di capoposto e anche di sorveglianza generale, sempre nella struttura carceraria della città del Longano in cui coesistano casa circondariale, casa lavoro, reparto per malati di mente e femminile, solo nell'ultima settimana ancora aggressione e danni dei poliziotti, completamente sfasciata una cella del reparto e di tutti i neon dell'ottavo reparto e 70 detenuti psichiatrici lasciati al buio. Una situazione generale che fa comprendere il fallimento della chiusura degli ex OPG sia sotto gli occhi di tutti e i poliziotti penitenziari subiscono sulla loro pelle le conseguenze e tra le richieste sindacali rimaste inascoltate.